3, 2, 1, vai! Ok, 200, fessi, ingresso a destra, di quarta, sigla, bene le marce, di terza, di quarta, di quarta, vai supero, ok, 500, a re bianco, pettine doppio, stai un po' alto qua, ok, a re bianco, ecco a re bianco, eccolo qua, terza, sicurissimo, 400, fettine, ingresso a sinistra, doppio di terza, questo scivola eh, chiude all'albero sulla destra, ok, 300 alla pianta, bianco, destra, sinistra, ok, 500 alle gomme, pettine, ingresso a destra, di terza, dopo le gomme eh, vai che spingio, le gomme, ecco, subito, alla rete, pettine, ingresso a destra, la seconda chiude, ok, dito, stai un po' a sinistra, dietro nelle inversioni, vai dritto, vai dritto in versione, di terza, ingresso a sinistra, stai un po' a sinistra, stai un po' a sinistra, ok, piede sinistra, occhio che scivola all'uscita, benissimo, 500, fettine sinistra, doppio di terza, bravo, prima variante, stai centrale, stai centrale, ok, pettine, ingresso a sinistra, bianco, centern% Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Grazie. 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 Grazie.